Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Agrigento al comando del tenente colonnello Antonio Cecere in esecuzione di un decreto d'urgenza emesso dal procuratore della Repubblica Renato di Natale, dai sostituti procuratori Giacomo Forte, Salvatore Vella e Dipartimento Reati Ambientali e Societari, Procura della Repubblica di Agrigento, ha effettuato un sequestro preventivo di conti correnti nonché di documentazione amministrativa e contabile nei confronti degli indagati Salvatore Moncada, 50 anni, suo fratello Stefano, 48 anni e Girolamo Caruso, 60 anni e nei confronti di due società la MA Rinnovabili SRL con sede ad Aragona di cui è legale rappresentante Salvatore Moncada e la società agricola Solar Farm SRL di cui è legale rappresentante il fratello Stefano. Alla base della vicenda ci sarebbe un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica costruito in contrada a Monte Narbone Il terreno sarebbe classificato come zona agricola dagli strumenti urbanistici del comune di Agrigento ma utilizzato per fini industriali L'accusa è per tutti di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche L'assunto accusatorio ipotizza che i tre abbiano dapprima attatamente rappresentato al comune di Agrigento che avrebbero realizzato un impianto caratterizzato da strutture tipo serre integrate con pannelli fotovoltaici per l'allevamento e la coltivazione in regime di agricoltura biologica tanto da ottenere in data 26 marzo 2009 la concessione edilizia numero 85 e successivamente abbiano realizzato un impianto che lungi dal concretizzare la dichiarata volontà di effettuare l'allevamento e la coltivazione nei termini rappresentati deve ritenersi a tutti gli effetti impianto di tipo industriale per il quale era invece necessaria l'autorizzazione unica regionale per il quale era, quindi ripetere l'albero l'asso, per il quale era invece che erano un impianto di pioggia